Dal 2 all'8 ottobre torna l'appuntamento annuale con la settimana nazionale della dislessia e a Vipo Valencia, la sezione dell'AID, ha organizzato un corso gratuito per approfondire i temi legati ai disturbi specifici dell'approndimento dal titolo Legge 170 2010, dalla conoscenza alla consapevolezza attraverso le tecnologie informatiche, dove verranno approfondite alcune tecniche didattiche utili per l'insegnamento delle lingue straniere e gli studenti con DSA, oltre che trattare la gestione e la piena consapevolezza degli aspetti emotivi di questi ragazzi. Bisogna assolutamente insistere su quelle che sono le fonti dell'informazione e su incontri formativi, perché le leggi ci sono, la 170 c'è, ma bisogna conoscerla e applicarla. E noi nel territorio di Vipo ci stiamo lavorando, riusciremo, ma con l'aiuto di tutti ovviamente riusciremo, sì. Un aspetto importante del quale bisogna tenere conto sono le nuove tecnologie che aiutano moltissimo. Sì, infatti il nostro esperto viene da Bologna proprio per insegnarci che si può apprendere, ma tutti noi possiamo apprendere anche con le tecnologie. C'è un po' di diffidenza nelle nuove tecnologie, ma l'apprendimento passa anche da quelle, specialmente per i nostri ragazzi, i quali ormai sono abituatissimi a lavorare con il digitale. Che cosa consigliare a chi scopre di essere dislessico oppure di avere un figlio dislessico? Dunque la dislessia è una caratteristica, si nasce così e si vive così, però bisogna prima di tutto formare le famiglie, convincere i genitori che non è un problema o qualcosa da nascondere. E passare poi dal punto di vista sanitario, dal pediatra, la scuola segnala di solito al pediatra, il pediatra poi invia al centro di neuropsichiatria infantile, laddove poi si faranno gli accertamenti di rito. E quindi si potrà lavorare poi di ritorno a scuola su un piano personalizzato, un PDP, che aiuterà l'alunno, il ragazzo, ma anche l'adulto, perché noi seguiamo i ragazzi anche all'università e nel mondo del lavoro. Per cui far valere i propri diritti vuol dire conoscere la propria caratteristica, accettarla e lavorarci su per avere un futuro migliore.